Oberdan Biagioni sarà il nuovo tecnico del Messina. In giornata verranno limati gli ultimi dettagli e già da domani l'allenatore romano guiderà la compagine peloritana, dopo che ieri pomeriggio la società messinese ha ufficializzato la separazione con l'ormai ex tecnico Pietro Infantino. 49 anni, allievo di Sdenek Zeman, da calciatore Biagioni ha vestito le maglie di Lazio, Foggia, Cosenza, Udinese, Brescia, Crotone, Andria e Pistoiese con ottimi risultati, ma vanta una carriera fin qui tutt'altro che brillante in panchina, con quattro esoneri ed esperienze non certo esaltanti alla guida di Tivo, di Terracina, Andria, Ostia, Viterbese, Olbi e Potenza. Con lui giungerà in Sicilia il direttore sportivo campano Gianluca Torma, nativo di Torre del Greco, ex dirigente di Andria, Matera e Cerignole ed ex osservatore di Sassuolo, Empoli e Ternana. Proprio ad Andria, Torma e Biagioni hanno lavorato assieme, con il tecnico romano in panchina. Valutati negli ultimi giorni anche i profili dell'ex allenatore del Messina, Raffaele Di Napoli, dell'esperto Giuseppe Rigoli, dell'emergente Massimiliano Larosa e dell'ex trainer della Sicula Leonzio e Modiana. Proprio ieri pomeriggio, il presidente biancoscudato Pietro Sciotto ha incontrato Rigoli, primo nome sul taccuino della società, ma l'ex allenatore di Acra, Cascatania e Juve Stabbia, pur a malincuore, ha declinato l'offerta. Biagioni alla fine l'ha spuntata, forte anche dei contatti avvenuti nei mesi scorsi con il presidente Pietro Sciotto e soprattutto del rapporto con il direttore sportivo Torma. Oggi seduta di allenamento, agli ordini del preparatore atletico Giuseppe Finocchiaro sul manto sintetico del Despar Stadium di Bisconte, mentre domani è previsto un amichevole contro il Camaro di Michele Lucia.